È pazzesco quando ci penso ora. In quel momento pensavo di essere come un adulto completo. Hai così tanta attenzione e scrutinio e poi è come se non importasse cosa fai dopo, non puoi davvero vincere, giusto? È come se avessi alcuni anni, è come se niente potesse eguagliare e solo molto da sopportare. Non capisco sinceramente da dove provenga perché mi sembra un completo mistero. Non facciamo così. Non abbiamo mai fatto questo. Quando abbiamo iniziato, c'erano molte modalità per il benessere senza fondamento scientifico, ma che hanno funzionato in India per migliaia di anni o in Cina. Quindi penso che fosse un modo per prenderci in giro, ma non c'è assolutamente nulla di cui parliamo che sia effettivamente così stravagante.